Musica Allora intanto un ringraziamento a tutta la dirigenza dell'Umpli Calabria per questo evento che ha voluto in questo territorio magico e in questa occasione proprio di questa visita a questo platano che rappresenta veramente la vitalità e rappresenta soprattutto la costanza e quello che tutti noi in questo momento particolare peraltro stiamo pure vivendo quindi a dimostrazione di questo esempio che si può veramente sopravvivere a tutto ma è chiaro anche l'occasione per svolgere qui in Calabria la prima giunta in presenza dell'Umpli Nazionale che è un momento anche per dare un segno della vicinanza di tutta l'Umpli a questo territorio a queste prologo che tanto stanno lavorando e che tanto si stanno dimostrando di voler bene a questo territorio e soprattutto di valorizzare grazie anche a questi eventi legati appunto sia a questo premio ma anche a Tropea, Borgo dei Borghi e a Vibo Valencia città del libro quindi con questo ancora un grazie e un buon lavoro a tutte le prologo